Non mi pare, francamente, la gestione operativa degli incendi fa capo non a chi ha la responsabilità politica ma a chi ha la responsabilità operativa e quindi ci sono state situazioni molto critiche. Mentre io sono qui a Montpantiero il fuoco ai 200 metri dalle case. I mezz'aerei bastano? I mezz'aerei sono tutti attivi, hanno la piena copertura finanziaria, ne arrivano altri due per la verda della Croazia che contribuiranno a rafforzare l'operatività aerea se la visibilità lo consente perché uno dei problemi è che il fumo non permette agli elicotteri e agli aerei di volare come potrebbero.